Devbook.it ti permette di essere connesso con tutti i tuoi amici, di comunicare con loro, di inviare messaggi e video messaggi privati, di essere in contatto con le associazioni e con i professionisti tipo medico, interprete, psicologo, ecc. Per poter usufruire del servizio di Devbook, devi prima registrarti. Per la registrazione, devi fornire alcuni dati. Nome, cognome, e-mail. Potrai accedere solo dopo aver ricevuto conferma della tua registrazione per e-mail. Buon divertimento! Grazie! 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 Grazie!